In questo video possiamo vedere la cornice, una volta che è stata terminata, sono stati montati tutti gli stucchi che il doratore stava preparando, sono stati montati e il giorno successivo è pronta, cioè oggi, è pronta per essere scartata, che significa togliere il legno in eccesso. Questo tipo di intaglio consente alla cornice di avere il suo disegno, quello della cornice francese del Settecento, di prendere forma. Ecco qua, questa procedura di intaglio si chiama scartare la cornice, quindi prima è stato segato con la sega tutte quelle parti che si vedono lì, tutte quelle righe, e poi adesso vengono tolte. Ecco, come vedete, in questa parte qui, con il lavoro di scalpello, si sta rifilando tutto lornato. Invece qui, più avanti, si vede com'è originalmente, prima di intagliarlo, quindi ha tutta una parte in legno in più che deve essere eliminata. E questa è una visione globale della cornice.